In realtà ce lo siamo chiesti tutti in questi giorni, ma chi è Elinora? Elinora, cioè la cantante della disastrosa esibizione dell'inno inglese che c'è stata a Napoli. Ebbene, c'è stata una pioggia di insulti, per questo dobbiamo indagare assolutamente allo stadio Maradona di Napoli, perché nella serata del 22 marzo Italia e Inghilterra giocavano praticamente le qualificazioni per gli europei. Fin qui tutto ok, tutto ok, un cavolo, perché a far da protagonista l'evento sono state le esibizioni dei due inni nazionali, chi dell'uno, chi dell'altro, cioè quello inglese subito in primis. Ma la FIGC aveva annunciato grandi sorprese già prima del fischio d'inizio, ma si sono rivelate un mezzo flop. Davanti ai 41.000 spettatori nello stadio e ai diversi milioni incollati alla televisione, hanno intonato l'inno per gli azzurri i cantanti Gigi D'Alessio e Clementino, mentre per quello della Nazionale dei Tre Leoni la cantante napoletana di origini inglesi Elinora. Quest'ultima esibizione è stata considerata dai tifosi d'oltremanica come la peggiore performance dell'inno di sempre. La FIGC aveva annunciato grosse novità per la sfida con l'Inghilterra. La volontà era quella di creare un evento vero e proprio nello stadio del Napoli, una «match experience» inedita che però si è rivelata un mezzo flop. Se infatti la presenza di Gigi D'Alessio e Clementino e la loro versione ritmata dell'inno di Mameli è stata una bella sorpresa per il pubblico italiano, l'esibizione della cantante napoletana di origini inglesi Elinora ha lasciato i tifosi inglesi senza parole. Class 1994, Elinora è una cantante nata a Roma da una famiglia napoletana. Ha studiato canto sin da piccola e si è formata negli Stati Uniti, dove ha anche partecipato a qualche esibizione. Nel 2018 ha partecipato al casting del programma televisivo Amici, ma non è stata selezionata. Nel 2023 ha partecipato a «Una voce per San Marino» superando il casting. Nel 2018 ha rivelato a Real Time di aver soffeto a lungo per la Merot del fidanzato, avvenuta in un incidente d'auto. A soli 21 anni poi, sempre a Real Time, ha rivelato di essersi sposata. Il matrimonio sarebbe durato poco per motivi che la cantane non ha mai specificato. Cantato non senza difficoltà, forse per la pressione che quel compito porta con sé, la cantante sbaglia la nota d'attacco creando un momento di imbarazzo generalizzato che porta le telecamere a riprenderla mentre armeggia con l'auricolare. Una chiara espressione d'ansia sul suo viso fa spostare le telecamere sui giocatori, che con sguardi di imbarazzo cercano di sincronizzare il labiale sulle parole di Elinora. Tuttavia, l'inno in sé e per sé non si è nemmeno sentito tanto visto che è stato coperto dai fischi dei tifosi inglesi. La vera e propria polemica si è creata però sui social. Dalla prima nota sbagliata in apertura dell'inno i tifosi d'oltremanica hanno iniziato a insultare e a fare ironia su quello che stavano guardando. L'inno è stato giudicato come il peggiore mai ascoltato. Alcune persone si sono fermate a semplicemente ironizzando sulla cosa, qualche meme e poco più. Altri invece ci sono andati più pesanti con veri e propri insulti alla cantante, che al momento dell'esibizione era visibilmente in un grande stato di nervosismo. Chiunque tu sia che stai cantando l'inno nazionale per l'Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia, hanno scritto. Anche l'ex difensore del Tottenham, oggi volto televisivo Jamie O'Hara, ha definito l'esibizione come «un semplice disastro». Anche Clementino e Gigi D'Alessio sono stati presi di mira dagli utenti social. I due cantanti sono stati chiamati come più importanti celebrità della musica partenopea. Tuttavia, l'esibizione più «pop» dell'inno di Mameli ha convinto il pubblico al Maradona, ma non quello a casa. Sembra un pezzo neomeloico, scrivono su Twitter. O ancora, ma è l'inno o una tarantella? Insomma, una esibizione da ambo le parti che non ha convinto. Curiosità e tanto altro. E se volete, potete trovarmi anche sul format di intrattenimento. Basta cercare «Gratta e Vinci con Max» e lì ci divertiamo un po' con i famosi «Gratta e Vinci». Tanto pago io, che me frega! Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.